Ad oggi penso che non avrei potuto fare scelta migliore della LUMSA. Questo corso di laurea forma professionisti con competenze economico-manageriali avanzate, pronti a inserirsi e operare in modo consapevole come imprenditori, start-upper, manager, consulenti e dottori commercialisti. LUMSA è la realtà universitaria che ha perfettamente risposto alle mie esigenze. Io qui ho trovato professori d'eccellenza e un sistema che mette al centro lo studente e che lo segue passo dopo passo. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una forte attitudine all'innovazione e all'imprenditorialità, declinate alla luce dei valori fondanti della LUMSA che pongono al centro la persona umana. Quest'università mi ha accolto e mi ha formato, mi ha coinvolto in progetti formativi curriculari ed extracurriculari e durante tutto il percorso mi sono sempre sentita protagonista della mia carriera universitaria. Se penso al mio futuro lavorativo me lo immagino in una carriera internazionale in consulenza e penso di essere pronta. Uno degli obiettivi del nostro corso di laurea è di far comprendere appieno agli studenti i processi legati alla transizione digitale delle imprese, alla sharing economy e alla sostenibilità. Il nostro approccio si differenzia dagli altri perché prevede l'integrazione della didattica in aula con la presentazione e discussione di casi aziendali, testimonianze e workshop tematici. Le più importanti figure professionali che formiamo sono esperti in sostenibilità, esperti in digital strategy, esperti in economia e valorizzazione dei beni culturali, esperti in innovazione e start-up. Ad un passo dalla laurea posso dire di avere raggiunto i miei obiettivi, quelli che mi ero prefissata e penso che proprio per questo l'Unsa sia stata un'ottima scelta. Grazie per la visione